Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La luminosità è quel che è perché sono in macchina che sto tornando dallo stadio però indubbiamente una partita che la Juventus ha dominato, terminata 4-1, il risultato lo fa ben capire l'Udinese ha avuto veramente poche, pochissime occasioni, una delle poche l'ha sfruttata con la Zaglia che ha fatto anche un bel gol però per il resto è stato praticamente un monologo Juventus con anche il rigore di Emmercian che non ho visto però credo che non ci siano dubbi a riguardo, cioè l'ho visto ovviamente, non ho visto i replay né niente quindi credo in realtà che ci siano pochi dubbi. Sono molto molto contento per Ken che fa doppietta anche il secondo, anche un gran bel gol almeno da quel che è sembrato, il primo un gol comunque molto bello nel senso che Alexandro ha fatto una bella azione recuperando palla, poi è chiaro che lui è stato bravo e si vede che ha il senso del gol comunque, però sono veramente molto 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 contento per lui perché comunque ha sfruttato bene la sua occasione e non era banale come cosa, nel senso che è chiaro che hai una eredità tra virgolette pesante perché comunque sostituire Manzzi, chi c'è Cristiano Ronaldo, chi per loro non è mai facile però giochi, hai la tua chance dal primo minuto, ti giochi le tue carte, fai doppietta, proprio di più non poteva chiedere in più ci guadagna il rigore, quindi alla fine veramente non poteva chiedere di più mi è piaciuto anche tantissimo onestamente Bentancur, che mi è piaciuto anche di più di Pjanic nel senso giocava un po' nel suo ruolo, quindi ruolo di regia, aveva ruolo più di impostazione però anche recupera pallone, insomma l'ha fatto molto molto bene e comunque l'ha fatto con una velocità diversa rispetto a Pjanic quindi mi è piaciuto veramente tanto, ha fatto una gran parte, ha fatto anche assist quindi insomma veramente una partita da 7 pieno in pagella invece Bernardeschi anche lui è stato molto molto bravo, però nel secondo tempo si è un po' intestardito voleva evidentemente trovare la via del gol, si era già visto poi quando Ken ha fatto il secondo gol che insomma voleva quella palla sul secondo palo, però chiaramente Ken voleva segnare e non gliela ha data però poi si è un po' intestardito, comunque partita di grande livello anche la sua nel senso che era lui il primo a creare fantasia là davanti, poi è entrato di Vale e anche lui gli ha dato una mano però era il primo a cercare di creare un'azione offensiva e poi indubbiamente per quello si andava un po' ad intestardito c'è altro po', veramente poco altro da dire di questa partita, però voglio raccontare un siparietto interessante carino e anche divertente che è successo oggi allo stadio perché negli ultimi 5 minuti del primo tempo praticamente è successo che la curva che è in protesta in realtà da tutta la stagione nei confronti della società e di conseguenza non va a cantare ha cominciato a fare qualche coro, qualche coro perché l'altra curva lo faceva e quindi hanno cominciato a cantare è solo che chiaramente dopo 40 minuti in cui non cantavano in questa partita più tutte le altre partite di silenzio la tribuna ha cominciato a fischiare ciò che appunto stava facendo la curva e di conseguenza sono cominciati a prendere per i successivi 5 minuti più recupero le due curve cioè non la curva, la curva e la tribuna sono cominciati a prendere quindi ogni volta che cantava uno fischiava l'altro, ogni volta che cantava l'altro fischiava quell'uno allora è tutto un casino, però è stato un siparietto molto molto divertente che ho avuto il piacere di vedere e sono molto molto contento di questo per il resto ragazzi la partita che conta è ovviamente martedì speriamo che ovviamente il massiccio turnover fatto da Allegri sia utile, sia stato necessario e sia stato efficace per appunto la partita di martedì che è quella che conta perché come detto oggi c'è veramente stata poca partita detto questo ragazzi il video è finito e io vi invito a mettermi in piace se volete altri video post partita vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo questa partita della Juventus e l'Udinese e vi invito infine a riscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video attualità calcistica, fantacalce, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio detto questo vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video